Sì, ci siamo anche noi, sappiamo che possiamo giocarcela alla pari con le altre squadre, anche con quelle di vertice, l'abbiamo visto, l'abbiamo dimostrato. Dobbiamo solamente cercare di dare continuità e di crederci un po' di più in alcune situazioni, in alcune partite. Oggi abbiamo visto che contro una squadra imbattuta per tanti motivi, abbiamo dimostrato di fare una buonissima gara e portarci a casa meritatamente un bel pareggio. Sì, sì, non è poco, è l'altra dimostrazione di una squadra che dopo un inizio un po' stentato ha cambiato marcia e anche oggi è una dimostrazione di una squadra che comunque fino alla fine non molla e abbiamo ribaltato il risultato anche oggi. Spero per lui sia una carica importante perché lui chiaramente si aspetta i soliti 5-6 gol stagionali, ce li aspettiamo anche noi e oggi sono contento che ha fatto al di là del gol anche un'ottima prestazione, cosa che lui sicuramente è in grado di fare. Noi dobbiamo continuare, l'ho detto in conferenza stampa, adesso al di là che riusciamo a giocare alla pari contro le squadre migliori, noi dobbiamo imparare a continuare a dare continuità di prestazioni. Poi vediamo cosa succede, non è il nostro obiettivo quello di arrivare primi, però è chiaro che queste partite sono una dimostrazione che manca poco, che siamo lì anche noi e che ci possiamo divertire, poi vediamo.